Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi sono già in esterna come vedete, mi sono svegliata prestissimo, ho fatto mille giri, avevo un appuntamento, dovevo venire a firmare un documento, quindi sì, sono le 10.20 e ho già girato mezza Roma praticamente, però meglio così, perché tanto chi si sveglia presto si sa che poi è più produttivo in teoria. Ho malissimo a quest'occhio oggi, ci vedo tipo appannato perché sono tre giorni che non dormo per comprare il fottutissimo merch dei BTS sul sito, ma alla fine c'è stato un update rispetto almeno all'ultimo vlog in cui abbiamo tentato di prendere quello di Jungkook con il secondo pre-order. Sono riuscita a prendere la felpa, quindi almeno una cosa ce l'abbiamo, la lampada. Speriamo in un terzo restock e di riuscirci prima o poi perché la voglio, però anche meno perché, esempio, su ebay l'hanno messa dai 600 euro fino anche agli 820. Valenti, ve la tenete raga, piuttosto mi faccio due concerti e follia, follia. Visto che è ancora presto, volevo andare a registrare un TikTok alla Lidl perché questa settimana dovrebbe essere la settimana delle cose asiatiche, quindi volevo andare a vedere che cosa c'era e prendere qualcosina di interessante. Non potrò mangiarle perché sto ancora facendo una keto, però proveremo a vedere qualcosina. E poi ho visto che questi video su TikTok vi piacciono un sacco, quando vado ai supermercati vi faccio vedere le cose che reputo più interessanti, che semplicemente mi incuriosiscono. Visto che la Lidl in realtà non sta proprio vicino a dove abito, devo andare verso Nagnina. Ok, sono qua da Lidl e ci sono tutte le cose effettivamente. Ho preso praticamente quasi tutto, quello che c'era da prendere. E addirittura c'era anche il kimchi, quindi l'ho preso. Insomma poi vi faccio vedere tutto bene, visto che sono qua. Approfitto per provare questi, che dicono tutti che sono i più buoni, come dessert proteici. Ok, ho fatto la mia spesina, tra l'altro ho speso pochissimo, 20 euro. E alla fine ho due buste belle piene. Ho preso anche un po' di cose che mi servivano, non della settimana asiatica, tipo gli hamburger di tacchino. Insomma un po' di cose così. Devo dire abbastanza soddisfatta. Cioè soprattutto la cosa tipo le salse, c'era quell'agrodolce piccante che veniva a 1,50 euro, era una boccia tanta. La salsa di soia a 99 centesimi, che comunque di solito la trovi almeno a 3-4 euro. Certo non è di marca, ma è sempre salsa di soia. I noodles ci sono i pacchetti piccoli. Rispetto a tipo i ramen che ho anch'io, che ho preso allo shop asiatico, questi pacchetti sono più piccoli, proprio di quantità. Li ho presi anche perché stavano a 40 centesimi, cioè una cosa assurda. Detto ciò, comunque adesso si sono fatte le 12 e 11. In realtà mi sto facendo la pipì a tosto, cioè sto proprio soffrendo. E volevo andare ai che, però mi sa che ci passerò un'altra volta perché non c'ho proprio voglia. Quindi torno a casa, pranzo, poi volevo andare a fare una passeggiata con i gagnolini, se il tempo regge. Faccio brevemente vedere cosa ho preso, ma prima vi faccio vedere questo pacchettino. Praticamente ho preso due portachiavi personalizzati da Etsy. Ovviamente sono tutte pagine di ragazze che fanno queste cose, no? Poi ho fatto fare questo per una mia amica, che io lo voglio dare insieme alla tazza. Che anche lei è venuta a Los Angeles con me, però non l'avete vista lei nei video perché non era in casa con noi. E poi mi sono fatta fare questo di Jungi, da una parte così e dall'altra questo. In realtà questo invece è quello che mi ha regalato Alessia. Ecco qui tutto il bottino, se sentite chi è che abbaia come sempre? Dovete sapere che queste due femmine fanno sempre... Lui è un mangiare normale, loro devono fanno la lotta. Guenda, quella è la tua pappa, io non so più come dirtelo, eh. Riuscirò a registrare queste clip. Questi sono i Dester Proteci che vi ho fatto vedere. Dicono tutti che sono buonissimi, quindi cioè li devo provare. Poi ho preso l'insalata e i hamburger. Come non c'entrano niente i datteri, che mi servono per fare una ricetta. E anche queste, in realtà, sono buonissime. Queste invece sono tutte le cose della settimana asiatica. Ho preso entrambi i tè perché io adoro il tè verde. Quindi questo qui è con aroma di jasmine, che sarebbe gelsomino. E questo qua invece è zendero e limone. Cioè costava veramente tutto, penso su 1-2 euro massimo, a parte forse i raviolini. Poi ho preso i biscotti della fortuna, questi 1,50 euro, 10 pezzi. Boh, così giusto per farsi due risate. Poi ho preso i soba noodles, che sarebbero quelli di grano saraceno, se non sbaglio. Poi ho preso questi qua, che sono gli snack di riso piccanti. I glass noodles, qui c'è scritto amido di piselli e amido di mais. Poi appunto gli gyoza, che sono i raviolini. Questi qua mi ispiravano perché, a parte sono quelli piccanti, con le verdure e il tofu, quindi sono vegetariani. Poi ho preso, Korean style, il kimchi. Io tra l'altro ce l'ho ancora in frigo il kimchi. Questo va vicino ai miei ramen. E poi questi sono appunto tutti i vari noodles. Come vi dicevo, vedete che hanno le confezioni piccole. Questi qua sono leggermente più grandi. Ho preso quelli ai gamberi, pollo e manzo. 85 grammi, quindi è una porzione direi normale, onesta. Mentre questi sono più piccolini. Ho preso il pollo e il manzo. E sono da 60 grammi, quindi ancora più piccoli. Apriamo un biscottino così a casa, giusto per vedere come sono scritti dentro. Con un po' di perseveranza migliorerete la vostra situazione economica. Grazie. L'odore comunque sembra quello classico. Wow, che pranzo entusiasmante. Mozzarella, brecciaola e carote. Siamo qui al parchetto, è vero, con i cagnolini. Ce l'abbiamo fatta alla fine. Tra l'altro vestita in maniera improponibile perché mi sono messa il gag. Ma non mi andava di cambiarmi i calzini. Quindi vabbè, niente, fashion al parchetto, ragazzi. Fa un freddo, tra l'altro, che non vi dico. Infatti non so, Icy, come se la stia vivendo. Spero bene, vero? Non mi ne frega niente. Tra l'altro mi sono appena resa conto che tutte le clip che ho registrato col telefono negli ultimi tempi. A parte, mamma mia, che faccia da culo che sono questi giorni. Ma non erano in 4K, ecco perché si vedevano male quando le mettevo sul computer. Dovete sapere che i miei cagnolini sono bravissimi quando li lascio sciolti al parco, ok? Il problema sono gli altri cani, cioè, o meglio, quando ci sono altri cani. Perché Amarok è un po' furasto. Ecco, tipo, questo canio adesso c'è corso, ecco. Ripreso in diretta. Amarok, vieni qua! No, se vuoi... Ti sei cappottato! Ah sì, ma non ho capito, dov'è che ti sei rotolata esattamente? Cioè, un secondo ti ho perso di vista? Tra l'altro, in lontananza, vedo anche mia madre e mia nonna, che hanno portato Gwenda. Vediamo se la riconosci. C'è anche Gwendy! Tra l'altro, mi è appena arrivata la notifica di una stories di Jong-un. Quindi, muovetevi! Che mi serve il telefono! Ami! No, 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 no. Andiamo a ver su Gwenda. Guarda chi è. Ecco, oh, ce l'hanno fatta. Ninni, ninni, oh, questa pupa. Chi la do? No, perché muo è geloso. Lo so che è geloso. Aspetta, prendi pure nonna. Così cerca il cappello. Ai sì, si è disperata. Ai sì, vede l'ora di scendere. Lei odia sta in braccio. Sì, infatti odia sta in braccio. Allora, praticamente non mi tolgo il cappello da stamattina, da quando mi avete vista. Comunque, togliamolo. Non so in che condizioni potrei... Vabbè, pensavo peggio a cosa è spetta. Teso, rimani così, grazie. Non ho capito che cosa è successo qui. Quindi diamo una spazzolata e più o meno dovrebbero tornare come dei capelli almeno normali, non dico tanto. Perché ora devo andare a fare una cosa che probabilmente avrete già letto dal titolo, quindi quando è che sta scema fa sta pazzia? È così qua. Ho aspettato la sera perché dico magari ci penso un attimo. No, invece non è più forte di me. Qualche anno fa la mia soglia della pazienza generale verso le cose, le persone, fate voi, era molto alta. Cioè, tant'è che proprio la gente mi chiamava per situazioni del genere. Mi diceva, Ilaria, ti prego, mi serve la tua pazienza per gestire questa situazione. Adesso, un pelino meno. Un pelino meno. E quindi, in generale, cosa c'entra questo discorso? Sapete che ho tolto le extension da poco. In realtà ho visto che i miei capelli si sono allungati tantissimo da quando li ho tolti. Però vedete, sono ancora spezzati qua davanti. Ma vi ricordate come erano? Cioè, erano tipo così, eh? Qualche mese fa, quindi sono cresciuti tantissimo. Quindi si stanno ancora un po' riprendendo. E quando ho messo l'extension, per camuffare l'effetto tra i miei capelli e l'extension, la parrucchiera mi aveva sfilzato le punte. Vedete? Cioè, queste non sono rovinate. Cioè, o meglio, sì, questa parte è ancora quella che io avevo decolorata. Infatti, se vedete, ha un riflesso diverso rispetto alla mia base sopra, che è molto più cenere, quindi è molto più fredda. Io odio i capelli che non sono tagliati pari. Cioè, ovviamente su di me. E quindi, sto per fare questa cosa e cercare di appareggiare, soprattutto la parte davanti, che è quella ovviamente che vedo di più. Perché poi, ecco, sul retro non mi fido a farlo da sola. E quindi, sì, verrà una cosa un po'. Vediamo. Vediamo. Tanto, sono capelli. Prendo gli integratori, crescono. Allora, non farò nessun metodo, tipo quello dell'elastichetto. Io vedo gente che è follia, secondo me. Che si taglia i capelli, che fa così, no? Se li hanno lunghi, mettono l'elastico, prendono e tagliano. Cioè, con quale coraggio? Con quale criterio? Alcuni vengono bene? Secondo me è soltanto una botta di ghiulla. Da asciutti, non li bagno neanche un pochino. Cioè, una parte, tipo così. Vedete, devo tagliare questa cosa che esce. Il problema è che voglio cercare di fare una cosa più pulita possibile. Vedete, anche questi che io avevo spezzati qua sono ancora corti. Diciamo che spero, ecco, l'anno prossimo di potervi dire, li ho belli, sani e del mio colore. Perché è una vita che io non li portavo di questo colore. Non so se vi ricordate. Invece, rivedendo le mie foto da bionda, io non mi ci vedo più. Non capisco come io abbia potuto dire, sarò tutta la vita bionda. I don't like it anymore. Cioè, proprio, non mi ci vedo. E quindi, appunto, sto facendo ricrescere il mio. Poi magari, io lo so, in futuro. Alzo le mani, perché sono una persona abbastanza, tipo, lo vedo, ci penso, lo faccio. No, forse a volte neanche ci penso. Vabbè, più o meno, vabbè, tanto la farangia non la devo toccare. Solo una questione di qua. Cerco di farlo con le dita. Verrà una cagata. Mi ripentirò? Probabilmente. Ecco qua. Vedete? Fail. No, perché altro perché qua è dietro, quindi poi devo riprendere qua. Fare di questo, più o meno. Però questo lo possiamo fare anche così. Magari tieni la testa dritta, Ilaria. Grazie. Però, vedete, è già meglio rispetto a qua, che c'hanno questi puntini. Fatemi un attimo sgrullare, che io odio i capelli tagliati così. Ok, giriamo la fotocamera, almeno mi metto qui, i capelli cascano nel lavandino. Ora andrò totalmente a caso, con la speranza di fare qualcosa di decente. Più o meno, dai. Non capisco perché il dietro è più lungo del davanti. Ma non ci interroghiamo troppo. Cioè, vedete, comunque già va meglio. Soddisfatta quando mi vengono queste idee, veramente. Ora devo solo riuscire a trovare la stessa lunghezza anche di qua. Guardate la cagata che è in arriva. Siete pronti? Sicuro l'ho trovati più corti, no? No, no, va bene. La parrucchiera che è in me è molto proud di tutto ciò. Riuscirò a farlo anche qui, neanche ci vedo, boh. Non so che sto tagliando. Sto tagliando alla cieca, alla cavolo di cane dietro. Giusto per togliere due, tre puntine. Però non è male. Cioè, ragazzi, vedete, è più... Meglio. Questo è leggermente più corto di qua. Tagliamo giusto questi. E poi fa bene ogni tanto tagliare le punte dei capelli. Almeno si rinnovano un po'. Io direi, visto che se no mi faccio prendere la mano, perché poi mi inizia a piacere fare qua. Basta. Ora devo solo passare l'aspirapolbe. Questi sono invece quelli nel lavandino, quindi adesso li prendo e li butto nella tazza, ovviamente. Poi veramente, cioè, mi sembrano già più sani. Vediamo se li metto dietro le orecchie, se sono della stessa lunghezza. Sì, secondo me ci sta. Mission accomplishment. Hello. Ragazzi, non so come sia volato il tempo, ma sono le nove e mezza. Anche nananai, sì, ci sono tutti, eccoli qua, come sempre, una grande trinità. Comunque, dopo essermi fatta il taglio, molto soddisfatta. Nessuno l'ha notato, però. Non so se è una questione più psicologica o altro. Anche perché vi ricordate quando si dice che una persona, quando vuole cambiare qualcosa nella sua vita, inizia sempre dai capelli? Forse anche quella è una cosa psicologica, perché ti porta a pensare che tu veramente stia iniziando qualcosa di nuovo, oppure quando ti lasci con qualcuno. Non è il mio caso, cioè, apro e chiudo per... non è il mio caso. Come prima cosa uno cambia il taglio, il colore, perché vuole un'aria nuova. Detto ciò, devo ancora farmi la doccia. Ho fatto il look di Cimmi, però non ve l'ho fatto vedere stavolta niente spoiler, perché già vi ho spoilerato troppi dei look che sto realizzando. Mi piace molto, mi piace molto anche perché è molto giallo. E quindi, quindi sì, l'unico problema è che ultimamente quando mi trucco mi si gonfiano gli occhi qua sotto. E soprattutto mi si arrossa questo angolino qua e comincio a lacrimarmi. Devo montare il vlog che voglio far uscire domani. Tra l'altro, nei prossimi giorni, devo darvi una notizia. Non so quando riuscirò a darvela, probabilmente nel video forse che girerò lunedì. Che ha a che fare con le unghie, quindi preparatevi perché non sarò sola. Poi tanto insomma lo vedrete settimana prossima. Questo qui, questo vlog, spero di farlo uscire entro domenica, così non ci allungano troppi tempi. Quindi sì, vedo lì lo schermo del pc con tutte le clip aperte che mi aspettano. E quindi penso proprio che mi darò. Ma prima devo farvi vedere una cosa, perché avevo detto che non avrei più comprato Funko Pop. Invece l'altro giorno su Vinted ho trovato una ragazza carinissima. Ovviamente l'ho trovata dopo averlo cercato, ma vabbè. Che mi ha fatto l'offerta per il pop di Chongu nella versione di DNA, che è il primo pop che hanno fatto. Allora ho detto ok, lo prendo. Perché adesso stanno a dei prezzi esorbitanti quelli là della prima linea. E quindi ho detto ok. Poi ho detto no, vabbè, però c'è anche quello di Dynamite. Cioè che fai, non ti prendi anche il pop di Dynamite. Paradoxalmente ho pagato più quello di Dynamite che non quello della prima versione. Ma vabbè. Dovrebbe intiore uscire anche la versione di Butter. E quindi collezione dei pop di Chongu. Ovviamente non li posso collezionare tutti, perché se no risto da capa a 12. Cioè vi ricordate che io ne avevo più di 300? E che li ho tipo quasi venduti tutti? Non tutti ancora, perché alcuni ce li ho ancora subvintati, ma comunque. E quindi eccoci qua. Questi due. Allora questo, vabbè, è il K-Shane, ma l'ho rimesso nella scatolina, l'avevo già preso. Questo qui l'ho preso da Amazon. Non posso prendere quello di Yoongi, perché è molto simile a questo di JK, paradossalmente. Qui l'ho detto, vabbè, inizierò la mia collezione di Solipop di Chongu. Qualcuno deve aiutarmi a disintossicarmi, perché non... Ho fatto la mia bella skin care, guardate come sono lucidina. Mi sono messa un po' di oli, un po' di prodotti, anche sui capelli. Tra l'altro stavolta non ho neanche piastrati, quindi sono un po' grettini, un po' così. Ho acceso tutte le mie varie lucine, il mio umidificatore e siamo pronti per andare a dormire. Grazie per essere stati con me anche in questa giornata e ci sentiamo presto con un nuovo video. Vi mando un bacio grande. Ciao!